www.mesmerism.info ma questo io l'ho fatto questo, dove ho fatto? no, è in Washington tutto Washington? sì ma questo ha scelto e pelle tutti c'è un cittadino qua lì, dove è? c'è un cittadino c'è un cittadino l'ha fatto, l'ha fatto che c'è un cittadino e l'ha fatto che c'è un cittadino abitato in quanto c'è un cittadino però se non vedo la pista, non è fatto il rosso guarda qua la pizzeria è magrà però è stato un po' ma la pizzeria è magrà guarda qua ma è quanto è tutto il pepe lo c'è tanto ma non mi piace tutto che manca la tua anima che non so ma poi nella sera fatti con questo indurzzato non ti rifiutti ma non mi fai bene non vabbè prima o poi si spessa si 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 è normale si può prendere le taccine ah non mi fai ho io che lo capisci la ruota della pianta la città la città la città la città la città è asciutta completamente, non è asciutta già e fa tutto asciutta e ci capite come sta registrando? e fa tutto a filo tipo spag che su alla fine non mi attacca quelli ma che cosa no? il capanna come si chiama questa casa? il capanna il capanna? perchè si chiama così? il capanna perchè si chiama così? perchè si chiama il capanna? perchè capanna? come si chiama il capanna? vedo se si chiama il capanna come si è fatta l'osso? ah visto? non si è fatta l'osso è una grandigetta